L'Avellino è in ritiro a Roccaraso e Biancoverdi hanno raggiunto la meta abruzzese in provincia dell'Aquila poco dopo le 12.20 dando inizio al proprio percorso precampionato. Il tempo di scaricare le valigie in hotelle tutti a tavola, poi il riposo pomeridiano che ha preceduto la prima seduta di allenamento iniziata alle 16.30 e anticipata da un fitto colloquio tra Piero Braia e Simone Ciancio. Il cursore di fascia vorrebbe riavvicinarsi a casa, il tecnico trattenerlo alle proprie dipendenze. Lavoro prevalentemente atletico prima di una partitella da 40 minuti divisa in due tempi da 20, decisa da un gol di testa del terzo portiere Pizzella. Sul manto in erba naturale del campo sportivo locale ha fatto il suo ingresso in corso d'opera anche il direttore sportivo di Somma che sta laboriosamente operando per piazzare i colpi in attacco. Sempre più vicino il ritorno di Trotta si valuta quello di Castaldo e si attende il via libera dell'entourage di Micoschi. Tornando alla stretta attualità ha sudato a parte Santaniello che sarà ceduto al pari di Bernardotto. Da registrare anche l'ingresso nello staff del nuovo preparatore atletico si tratta di Francesco Capistrano già con Braia ai tempi della Juve Stabbia. Da domani tutti sotto torchio al ritmo di due sessioni di fatiche quotidiane al via a 4 chilometri di distanza arrivi Sondoli anche il ritiro della Juve Stabbia di Walter Alfredo Novellino.